E ragazzi va bene proteggersi dal freddo, è importantissimo, ma è bello anche cambiare cappello ogni tanto. Eccone un altro, economico, poco ingombrante, caldo e sempre da HeliconTex. Lo chiamano Urban Beanie Cap, è un cappellino insomma per la vita di tutti i giorni. Avevamo visto proprio recentemente il Winter Merino Beanie. Beh ragazzi questo è tutto in lana merino, è il mio preferito. Mentre la versione Urban è realizzata in misto lana, quindi metà lana merino e metà poliestere riciclato derivante dal riutilizzo della plastica. È comunque molto traspirante, è molto comodo ed è costruito tecnicamente in un doppio strato di questo tessuto misto. Sicuramente in un ambiente urbano non dà nell'occhio, non ha neanche il risvoltino, quindi è comodo pure per appoggiarsi sui treni, per dormire un po' sui mezzi, dove capita. Pesa soli 66 grammi ed è sicuramente il cappellino giusto per chi cerca un modello economico, con un look essenziale, magari vuole sistemarlo in un kit nel cambio completo dell'automobile e comunque ti serve un buon cappello da tenere lì, ma vuoi anche spendere il giusto. Lo consiglio anche a chi ama cambiare colore, proprio perché lo fanno in diverse colorazioni e quindi fatta un po' la collezione di cappellini uno cambia anche il colore. Potremmo fare il confronto con il collega diretto, con il Winter Merino Bini. Vi dicevo questo ha un risvoltino, risvoltino per me tecnicamente rappresenta un vantaggio e anche uno svantaggio. Il vantaggio è quello di coprire meglio, di scaldare meglio la zona delle orecchie, la fronte e ovviamente la nuca. Lo svantaggio è che non è proprio comodo dormire con il risvoltino sui mezzi o in bivacco, dormire in giro in qualsiasi occasione. Quindi potrebbe essere utile passare al Urban Bini, sempre di Helicon Tex. Se vi piacciono i cappellini date un'occhiata a tutti quelli che abbiamo perché sono tantissimi e troverete sicuramente quello che state cercando.